C'è un appuntamento atteso in seguito alla pandemia ancora più atteso? Certo, abbiamo avuto questo stop di un anno forzato e finalmente ci riprendiamo la città, ci riprendiamo la libertà, ci riprendiamo la voglia di correre. 26esima edizione alla partenza domenica, 8.45 piazza al Carnale. Quanti partecipanti? Quanto è lungo il percorso? Il percorso si snoda per 21,97 km, è una classica mezza maratona, due giri partendo dal Carnale, via Leucossia, altezza Miramare, Giro di Boa all'interno, via Trento, per avere di nuovo il Giro di Boa al Teatro Verdi, due volte il percorso. Poi ci sarà la 10 km che sarà sullo stesso percorso, partirà allo stesso momento e non competitiva, quindi amatoriale, un solo giro. Quest'anno la Stasera è nel campionato regionale di corsa su strada di 21 km. Anche questo è un segnale di ripartenza, pian piano proviamo a riappropriarci delle nostre vite. Assolutamente sì, siamo tutti scalpitanti, abbiamo sofferto tanto di questa mancanza di libertà e questa è un'occasione per ricominciare.